l'aglie ma pure il quaffiato fuoco ragazzi ciao a tutti daremo a gabriele qui sempre la manina torno alla cinque minuti me lo dice quando stai a cinque minuti me lo dici tranquillo tranquillo no perché ce leggo male però dovrei riuscire è bellissimo è troppo bello è bellissimo è adrenalina ma allo stesso tempo è un botto calmante è stranissimo allora le giornate sono molto diverse da quelle che adesso stai vedendo perché questa è una giornata diciamo molto debole di solito se gira come farsi? di solito se sale a tromba 3-4 metri al secondo senti 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 adesso ha un bel valore eh che bello adesso adesso ha un bel valore eh che figo proprio adesso se stiamo a ripiare? se giri magari mi fai un favore eh eh no porco zio dico io è bellissimo è bellissimo dai giriamo insieme va bene giriamo dai dai così vai stringi mi viene troppo da ridere non so perché è troppo bello è meraviglioso vai stringi che sta avanti vai avanti siamo a 2.40 guarda che belli tutti i laghetti lì sotto io c'ho una paura che mi cade sto coso no è legata tranquillo è legatissimo guarda che bello ecco la termica dai 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 che non stai in giro niente ma che sei matto ma che è la termica la termica è quell'aria che sale la corrente ascensionale esatto quando senti vi 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 vuol dire che stiamo salendo vi 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 eccola è troppo bello è stranissimo e bellissimo eh sì pensa che è lavorone per progettare tutte queste cose con le corde per sedeste per adesso lo fanno i computer fanno tutte le simulazioni pensa che noi volevamo queste buste quando quando proprio erano delle buste buste vere eh cioè buste che non salivano capito che planavi no manco planavi cioè precipitati più che planavi guarda guarda che bello quell'uccello che sta attraversando lì dove si bello bello se vede tanto ma è un po' l'anuna quello è grosso sì sì è una bella bestia se lo vediamo da qui così è una bella bestiola sarà quasi un metro sì 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 un metro tranquillo tranquillo ora che figa sta casetta sotto a noi casetta oddio questi sono i giardini di ninfa bello qui è da tornacce sia per far avendio che per guardare tutto sotto sì che è molto bello prima c'era uno che da là sotto stava a provare a volare da per terra praticamente eh vedi questo è basso adesso non ce la fa più a risalire capito ah no ma dico uno stava proprio là giù vicino all'arberi e stava cercando di volare da per terra da artetto di casa praticamente siamo a 5 minuti sì no 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 tranquillo adesso fammi vedere quel cacchio dobbiamo risalire un po' senti il vodoro che è bruciato eh pure prima mi pare di aver visto un incendio saluta ciao ragazzi ciao daremo il Gabriele